Musica Ben trovati con l'informazione, apriamo il nostro giornale con la cronaca. La polizia di Salo di Padova ha sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per ricettazione e condotto in carcere il cittadino rumeno di 31 anni Rotalo Costel Andrei senza fissa dimora perché trovato in possesso di numerosi capi di abbigliamento del valore complessivo di circa 1000 euro e sottratti da svariati negozi tra cui Compibel presso il centro commerciale Grandaffi Shopping Center di Affi in provincia di Verono che l'uomo tentava di rivenderli in maniera illecita. Ieri mattina gli operatori della squadra mobile nel corso di un servizio di prevenzione e contrasto ai reati predatori in via Reni a Padova notavano un'autovettura Opel Astra con targa spagnola con a bordo 4 uomini che venivano fermati e da qui ovviamente veniva identificato anche il Rotaru proprio in questi giorni stava smerciando i capi di abbigliamento ad un prezzo del 50% del suo valore. 16 anni dopo la trionfale edizione del 2002 con la città intera ad applaudire e ad accogliere il corteo torna il Gay Pride a Padova. Sabato 30 giugno alle ore 16 in Prato della Valle partirà il corteo del Padova Pride 2018 manifestazione regionale per l'orgoglio e la visibilità delle persone lesbiche, gay, bisessuali, trasessuali e intersessuali. Ce ne ha parlato l'onorevole Alessandro Zan. Vediamo. Zan, Padova si ritorna ad essere capitale della libertà. Sì, Padova è sempre stata capitale della libertà da quando Concetto Marchesi invitò gli studenti all'università a ribellarsi al fascismo. Padova è sempre stata una città libera, laica, liberale, con una grande cultura cattolica, però sempre attenta al rispetto nei confronti degli altri. Penso che da parte di tutti ci sia un rispetto reciproco e dunque le manifestazioni del Pride sono una manifestazione di dignità delle persone. Padova ha sempre risposto bene e risponderà bene anche questa volta. Un cartello pieno, pregno di iniziative e di confronti anche. Sì, è un mese di attività culturali nella città, sparse in tutta la città e nelle biblioteche coinvolgendo l'università, coinvolgendo i cittadini. Ed è un modo per conoscersi, per abbattere i muri, per abbattere le diffidenze che a volte la non conoscenza produce. E allora, quale migliore occasione, quella del Pride di Padova, per favorire la conoscenza reciproca e il rispetto reciproco? E poi c'è la solita, consueta manifestazione che rallegra anche quello che possiamo definire l'estate in città. Sì, poi c'è il Padova Pride Village che parte il 15 giugno, è un evento che c'è ogni anno, con grandi ospiti di qualità, un cartellone veramente importante. E anche questo è un contributo a rendere meno triste e più bella l'estate per i padovani. La scelta di Barbara Dursa com'è venuta? È stata lei a voler venire, ci ha chiesto se poteva partecipare all'apertura della manifestazione, è sempre stata molto schierata con i diritti. Abbiamo detto certo, è benvenuta e sarà presente il 15 giugno all'apertura. Torniamo alla cronaca, un violentissimo temporale ha colpito nel pomeriggio la zona ovest di Padova, in particolare tra Caselle di Servazzano e Brusegana, a Caselle diversi danni e allagamenti nel quartiere che al momento era senza corrente elettrica, garage allagati anche a Tencarola, soprattutto in via Livenza. La situazione più drammatica però a Brusegana con intere rotonde sommerse come in via Santi Fabiano e Sebastiano. Traffico fortemente rallentato in tutta l'area, una quarantina agli interventi dei vigili del fuoco in atto. strade sommerse anche in via dei Colli. Il controllo straordinario da parte degli agenti della questura è scattato ieri sera nella zona tra il Piovego e via Venezia, per capirci meglio, ai Navigli che a metà settimana si riempie di giovani e studenti per la tradizione del mercoledì universitario. In diverse occasioni sono stati segnalati episodi di spaccio che hanno portato ad una intensificazione delle verifiche. è qui che un pusher nigeriano è stato arrestato ieri sera durante la Movida con addosso circa 40 grammi di marijuana suddivisa in dosi nascoste negli slip e nelle tasche. L'uomo è stato portato in questura dove è stato identificato e poi arrestato per detenzione di stupefacenti. E ancora nel frattempo, nella stessa zona, i poliziotti hanno setacciato aiuoli e cassonetti trovando altri 30 grammi di marijuana. Sono state bloccate perché in possesso di ticket non validi dopo essere stati renderizzati su un sito che si chiamava Viva Tickets. Dopo il pagamento di circa 150 euro per biglietto avrebbero dovuto ritirare il ticket in loco il giorno del concerto. Naturalmente una volta arrivati all'Euganeo la sorpresa ha cesso negato. Il foglio stampato non aveva alcuna validità. Dopo il concerto di Torino e le decine di querele raccolte, la Guardia di Finanza sta ora indagando ma pare che i raggiri non si fermino. Sul posto sono arrivati gli agenti per ascoltare le lamentele delle persone respinte che sarebbero state circa un centinaio. Si sono fatti consegnare i biglietti e hanno confermato la possibile truffa. L'organizzazione Zed e la produzione di Vasco Rossi hanno deciso per il loro ingresso comunque al concerto. Nel frattempo i fan dovranno decidere se presentare o meno una denuncia. Questa mattina è stata presentata la colonnina che contiene il defrevillatore che precedentemente era stato rubato da qualcuno nei pressi di Palazzo Moroni. Ciò permetterà in caso di Malore di effettuare un primo soccorso grazie anche al corso istituito ad alcuni dei negozianti e bariste che sono allocati nei pressi della colonnina. Fondamentale è stato l'aiuto economico arrivato dai Lions e da un istituto bancario. Vediamo. Sindaco, di nuovo un'iniziativa interessante quella del defrevillatore lungo le strade. Molto interessante. So che a breve verranno installati altri 10-11 sempre in centro di Padova. È una cosa vitale. Adesso è obbligatorio per lo sport ma è importante che la comunità capisca il valore di queste cose. Possono essere salvate veramente molte vite umane ed è stata un'iniziativa molto intelligente. La sponsorizzazione della Banca Generale è molto efficace. La cosa molto interessante e positiva è che hanno informato e fatto sì che facessero un piccolo corso di formazione tutti la farmacia e i bar in maniera tale che siano tutti alertati. Manca la cultura di queste cose. La cultura è la cosa base. Man mano che queste cose si allargano e vengono percepite dalla popolazione diventano efficaci. Bisogna capire che ognuno ha delle responsabilità nei confronti degli altri e ognuno deve essere socialmente responsabile nei confronti degli altri. Ci vuol rispetto. Purtroppo il Presidente ha detto che il solito imbecille dopo due giorni l'ha rubato ma si trova male perché adesso arrivano avendo il GPS si trovi i carabinieri in casa e penso che mi auguro e spero che paghi. La cosa interessante è che poi tutti quelli che verranno installati oltre a questo hanno questa dotazione del GPS per cui chi li ruba sostanzialmente rischia è grosso. Certamente. Prima chi lo ruba rischia. Ma non solo. All'atto del prelevo viene avvisato automaticamente il 118 per cui l'ambulanza viene alertata immediatamente. Veramente una bella cosa. Il Lions Club ha sostanzialmente dato una grossa mano all'installazione di questo nuovo defibrillatore. Sì, noi abbiamo pensato come è nel nostro spirito, nel nostro scopo fondamentale fare del bene alla società, alla cittadinanza, ai cittadini per cui abbiamo pensato che questo elettromedicale, questo salva vita possa essere una cosa molto importante ma non è tanto il fatto del defibrillatore in sé in quanto anche il fatto di aver formato molti esercenti della zona in maniera che questa formazione ha incrementato e ha fatto aumentare la partecipazione degli esercenti alla vita cittadina e della cittadinanza. Come abbiamo sentito, gli esercenti sono stati abilitati anche a un corso per usare al meglio il defibrillatore che speriamo non venga mai usato però in questo caso c'è chi lo sa usare. Sì, certo, abbiamo fatto il corso e sono stati molto bravi a insegnarcelo a usarlo. È difficile da usare un defibrillatore? Bisogna avere una certa preparazione, ecco, perché chi non lo sa può avere dei certi traumi per non usarlo. Presentato a Palazzo Vollenborg in via del Santo 26 a Padova, oggi pomeriggio il primo museo italiano di geografia davanti ad un trito e incuriosito pubblico il museo di geografia della Università di Studi di Padova è il primo museo geografico d'Italia ha l'obiettivo di promuovere la conoscenza geografica attraverso la tutela e la valorizzazione del patrimonio raccolto in 150 anni di attività scientifica e didattica dell'Ateneo Patavino. L'esposizione si sviluppa negli spazi del prestigioso Palazzo Vollenborg che diede ai Natali ad un illustre economista e statista quale Leone Vollenborg. Dal 1972 sede anche della Geografia Patavina, già al Dipartimento di Geografia. Si sono accesi 60 nuovi punti luce dal progetto di riqualificazione energetica che sta coinvolgendo Padova in questi ultimi anni. Questa volta è stato il turno dei lampioni di via Aosta, via Vercelli e via Cuneo dove da dicembre 2017 la luce ha provveduto alla eliminazione di circa 30 impianti luminosi di vecchia generazione a sodio e a pressione con 60 nuovi e moderni punti luce a tecnologia LED. I nuovi lampioni permetteranno un netto miglioramento della illuminazione dell'area e faranno risparmiare qualcosa come 17 mila kilowatt all'anno. Con la firma davanti al notaio si è conclusa oggi l'operazione di acquisizione da parte della Regione del Veneto del 41,42% del capitale sociale di Veneto Strade portando così la propria partecipazione al 71,42%. Lo ha reso noto il Vicepresidente della Giunta regionale che ha fra le sue deleghe anche le partecipazioni societarie ricordando che tutto parte dall'articolo 1 del collegato alla legge regionale di stabilità 2018 che autorizza a procedere in tal senso al fine di avere il controllo della società. Inaugurata nel 2015 e torna anche quest'anno a maggior ragione visto che il tema della tredicina 2018 è proprio Sant'Antonio e i giovani la notte dei miracoli in programma la serata di domani venerdì 8 giugno alle ore 21.30 organizzata dal centro francescano giovani unitamente ai frati della Basilica. Ricordiamo che il tema dei fedeli in questi giorni ha anticipato la festa del Santo sono ben 30.000 quelli che sono transitati finora in Basilica. Sabato 9 e domenica 10 giugno l'Associazione Comercianti di Mortise in collaborazione con il Comune di Padova e l'Assessorato al Commercio organizza la festa di inizio estate a Mortise un grande evento con mercatini, stand gastronomici, sfilate di moda, musica dal vivo e dal pomeriggio gli artisti circensi del Padova Street Show che animeranno il quartiere con performance svalorditive. La culla del terrore, l'odio in nome di Allah diventa stato così Tony Capuozzo alle 17.30 di domani presenterà il suo libro al Circolo Unificato Esercito Palazzo Zacco in Prato della Valle le origini dell'attuale terrorismo islamista nelle bandiere nere dell'Isis della guerra santa dello Stato Islamico e dei suoi seguaci contro gli infedeli occidentali. L'ingresso sarà libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Simpatica, rilassata ma anche determinata e pronta Tiana Bartoletta ha subito conquistato tutti oggi presso il bar Cavour alla vigilia di salti in piazza evento che animerà Piazza delle Erbe proprio domani sera la tre volte campionessa olimpica si è raccontata ai giornalisti in un incontro nel cuore di Padova. È stata l'occasione unica per riconoscere meglio e dal vivo una star internazionale che solitamente a queste latitudini è possibile ammirare soltanto in tv ma che domani sarà appunto uno dei protagonisti di fama mondiale a scendere in piazza delle Erbe per questo happening di forza e anche di sportività. È un passaggio, è un inizio d'estate questa manifestazione dell'8 giugno per dopo concludersi il 2 settembre con il meeting di atletica che sarà allo stadio Colbacchini lo aspettiamo tutti, c'è grande attesa ma non solo a livello di Padova a livello veramente italiano, c'è grande attesa per rivedere lo stadio Colbacchini che aprirà le porte siamo tutti in fibrillazione per questo ma partiamo una cosa alla volta l'8 di giugno ci sarà questa manifestazione che secondo me sarà bellissima 5 cantanti, un ensemble di musicisti, un maestro e un acrobata sarà lo spettacolo davvero vario quello che ascenderà sabato 9 giugno all'arena di Montemerlo uno sforzo corale che coinvolge in tutto tra palcoscenico e organizzazione circa una trentina di persone tutti volontari che si impegnano per una raccolta di fondi a favore della fondazione Salus Pueri l'iniziativa è stata presentata oggi a Palazzo Santo Stefano dal consigliere delegato della provincia di Padova Alice Bulgarello e dal presidente della fondazione Salus Pueri Eugenio Varaldi vediamo sarà una bella serata la possibilità di vedere messe assieme diverse specializzazioni artistiche con uno scopo quello di sostenere il reparto dei bambini prematuri ma soprattutto i genitori per cercare di accompagnarli in questo periodo complicato e comunque impegnativo quando avviene la nascita di un bambino prematuro quindi un plauso veramente agli organizzatori alla fondazione che sostiene questo scopo e che la provincia si sente anche di condividere perché nel momento in cui si riesce a stare vicino a delle persone che hanno delle necessità importanti siamo sempre ben contenti di renderci disponibili il progetto Sport Anch'io celebra la conclusione dell'annata sportiva sabato 9 giugno alle ore 18 gli impianti sportivi Val Sugana e Via Querini ospiteranno la presenza dell'assessore allo sport Diego Bonavina alla festa di fine anno del progetto sportivo rivolto alle persone con disabilità psico-relazionali la festa finale è un momento importante per i partecipanti al progetto e i loro familiari che conferma come tutto il progetto l'utilità dello sport come possibilità di mantenimento delle condizioni psicofisiche e di aggregazione tra le persone con disabilità bene, è tutto per questa nostra edizione grazie per averci seguito grazie per aver guardato il progetto